La Snyder Cut di Justice League non smette di regalare colpi di scena. Dopo l'annuncio del suo rilascio su HBO Max nel 2021, la nuova versione del cinecomic targato Warner DC continua a ribadire un concetto ormai lampante. Questo Justice League sarà davvero un film completamente diverso da quello visto in sala nel 2017. Ce lo conferma anche l'ultimo annuncio davvero inaspettato. Ecco quale. Ebbene, a grande sorpresa Jared Leto riprenderà il ruolo di Joker nella Snyder Cut di Justice League. Il sito di Hollywood Reporter ha confermato che l'attore si unirà agli altri membri del cast di Justice League nelle riprese aggiuntive richieste dal regista Zack Snyder per concludere il progetto su cui sta lavorando. Il principe del crimine di Leto era perso brevemente in Suicide Squad, fortemente ridimensionato dal montaggio finale del film, e avrà ora delle nuove scene che lo vedranno a tu per tu con il Batman di Ben Affleck. La prima versione del film, tratto dai fumetti della DC, era infatti stata ideata per avere un legame con Suicide Squad, elemento che era stato successivamente rimosso e messo in secondo piano da entrambe le versioni. Il sito sostiene inoltre che le riprese aggiuntive dell'annunciata Snyder Cut, che, lo ricordiamo, sarà suddivisa in una miniserie composta da 4 episodi, sono attualmente in corso e sul set sarebbero impegnati Ben Affleck, Amber Heard e Ray Fisher. Jared Leto avrebbe inizialmente dovuto riprendere la parte di Joker in occasione di uno spin-off che lo avrebbe visto protagonista accanto a Margot Robbie, interprete di Harley Quinn. Il progetto, dopo le critiche rivolte a Suicide Squad e l'incredibile successo del lungometraggio con Joaquin Phoenix, sembra sia stato definitivamente abbandonato. L'attore, che pare non abbia preso benissimo la realizzazione di Joker, sembrava aver tagliato i punti con Warner DC, dalla quale non ha visto tutelata la propria immagine e rispettata la sua professionalità, ma questa notizia sorprendente cambia le carte in gioco. Sì, perché non dobbiamo dimenticare che David Heard, regista di Suicide Squad, vorrebbe finalmente mostrare la sua versione del film, a suo parere depotenziata al montaggio finale voluto solo dalla Warner. E qualora questa tanto agognata Snyder Cut convinca davvero i fan, non è escluso che anche il deludente Suicide Squad possa avere una seconda chance. E voi, che ne pensate del ritorno del Joker di Leto in Justice League? E vorreste anche una haircut di Suicide Squad? Fateci sapere la vostra nei commenti!